Musica Salve ragazze, in questo video vi farò vedere come creare una nail art semplice ed elegante, dai colori pastello. Quindi, cominciamo subito! Dopo aver applicato una base, il primo smalto che stende è questo celeste chiaro, su tutte le unghie. Una volta asciutto il celeste, prendo lo smaltino lilla e vado a fare una linea spessa al centro dell'unghia. Prendo lo smaltino viola dalla punta sottile e vado a contornare la linea lilla. Con un dotter vado a disegnare le prime argherite facendo prima il centro e poi i petali. Prendo lo smaltino viola dalla punta sottile e vado a contornare la linea spessa al centro dell'unghia. Sulle altre unghie, dopo aver steso lo smalto celeste, vado a disegnare delle strisce bianche con lo smaltino dalla punta sottile. Una volta asciutte, prendo due pezzettini di scotch e li vado ad applicare formando un triangolino. Riprendo lo smalto lilla e lo passo accuratamente nello spazio vuoto. Subito dopo prendo i glitter e li vado a stendere sullo smalto ancora fresco per farli aderire bene. Infine, molto delicatamente, rimuovo lo scotch dalle mie unghie e contorno il triangolino appena fatto di glitter con lo smaltino viola dalla punta sottile che ho usato precedentemente. Una passata di top coat e sarete pronti a sfoggiare le vostre unghie super colorate ed eleganti. Se questa nail art vi è piaciuta e avete intenzione di ricrearla, mi raccomando, non dimenticate di condividerla all'hashtag Nile Art Fantasy. Sono proprio curiosa di vedere le vostre opere. Ah, iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!